La webcar è la contaminazione del giornalismo digitale. Viva la webcar! Una macchina per raccontare una realtà che cambia. È proprio l'esempio del tipo di mutazione che il giornalismo sta avendo. Per me è stata una rivelazione, perché ho immaginato subito che si potesse liberarsi dall'obbligo di stare chiusi in posti fissi come questo e si potesse fare dirette video e avere wifi ovunque uno va. È davvero una rivoluzione ed è la classica cosa che ti fa cambiare un paradigma giornalistico. In pochissimi minuti permette a chiunque di viare via satellite i contributi televisivi. Bisogna andare, raccontare, essere presenti sui luoghi e mostrarlo, perché è anche un progetto che racconta la presenza e racconta un progetto giornalistico. Seguiteci perché questo è il nuovo modo di raccontare il mondo. Con l'acquisto della parabola sicuramente la nostra emittente basata sui volontari ha fatto un salto di qualità, non solo perché grazie alla parabola agevolmente possiamo trasmettere in diretta gli eventi principali della nostra diocesi, ma anche perché questo ci consente di farci conoscere. In quanto la nostra realtà ancora così embrionale e sconosciuta si vede col furgone davanti alla chiesa, davanti all'oratorio dove c'è l'evento e le persone chiedono. Quindi un servizio per chi è a casa e anche un modo direi bello di fare pubblicità grazie a questa attrezzatura.